Adesso invece andiamo a vedere quali sono gli esercizi più utili, più indicati per lo studio degli intervalli. Allora, innanzitutto, per chi magari non ha mai fatto questo tipo di esercizi, consiglio di partire nell'ambito di un'ottava, può passare oltre dopo. Quindi, prendiamo una scala di riferimento, ad esempio, senza partire sempre da questo maledetto che io odio, do maggiore, ma andiamo ad esempio in la maggiore. Come si può, appunto, studiare un determinato intervallo? Prendiamo l'intervallo di terza, considerando le note della scala maggiore di La, poi ci sarà anche il corso, i video dove spiegherò per bene tutte le scale, come si costruiscono, eccetera. E comunque, la scala di La maggiore è composta da La, Si, Do diesis, Re, Mi, Fa diesis, Sol diesis e La. Se io la suono per terze, viene fuori questo. Ho fatto La, Do diesis, Si, Re. Noterete che ci sono terze maggiori e terze minori all'interno della scala. Io posso farla, oltre a farla per ora all'interno di un'ottava sola, però posso farla con diverse diteggiature. Questo è fondamentale per lo studio della tastiera del basso. Quindi, se io mi limitassi sempre a fare la classica posizione che io chiamo del dito medio, che si inizia con questo, mi abituerò troppo con questo automatismo che praticamente posso iniziare sempre in questo modo qualsiasi cosa, che sia una scala, un arpeggio e quant'altro. Questo mi limiterà però su quando io dovrò poi fare musica, improvvisare. Se non conosco anche tutta la parte, diciamo, in orizzontale, comunque tutta l'estensione della tastiera, sarò limitato a questa parte invece della tastiera. Quindi, il primo esercizio è fare lo stesso esercizio, scusate la ripetizione, però cambiando diteggiatura. Ad esempio, partendo dal mignolo. Oppure partendo da l'indice. Vedete le note, gli interpalli sono identici, però cambio e poi mixare un po' il tutto. Partire magari qui. Si possono fare su una corda. Oppure su due corde. Posso anche, è fondamentale, intervallare, diciamo, intervallare l'ascendente col discendente, che vedebbe questo. Quindi, se ho fatto uno ascendente, l'altro discendente. Oppure tutti discendenti. Oppure il primo discendente. una volta che ho fatto questo, ovviamente in tutte le tonalità, su tutte le scale, perché io ho preso, per esempio, la scala maggiore di Lama, potrei usare una minore armonica. Il concetto è identico. Una volta che avete studiato tanto, all'interno di un'ottava, con le varie posizioni appunto, cambiando la disposizione ascendente, discendente, tutto quello che abbiamo detto, possiamo andare anche all'ottava superiore, quindi arrivare come obiettivo, facciamo un altro esempio, sempre in là, darsi l'obiettivo della due ottave sopra, non una sola, quindi. Sono arrivato all'ottava. E posso fare, come si diceva prima, in diversi, chiamiamoli, percorsi della tastiera. Cambio sempre, appunto, questo percorso, chiamiamolo così, e... Questi esercizi li posso fare con tutti gli intervalli. Quindi, ora, io ho fatto, ad esempio, le terze, però prendiamo una sesta, sempre in Lama maggiore. Stessa cosa, posso cambiare diteggiature. Posso invertire, appunto, partire discendente. e via dicendo. Posso farli su altre scale, quindi, potete inventarvi milioni di esercizi. Ovviamente, in base all'estensione del vostro strumento, quindi, chi ha quattro corde, sarà un po' limitato, ad esempio, sulle seste, le settime, perché dopo un po' le note sono finite, chi invece ha un basso 5 o 6 corde, ha più possibilità, ha più estensione, quindi, appunto, più possibilità. Però, anche noi, che usiamo il classico 4 corde, possiamo fare milioni di esercizi, in tutti i modi, è tutto utile. Posso fare, ad esempio, le settime, le settime, sempre sulla scala di Lama maggiore, e via dicendo. Questi sono tutti esercizi che vi torneranno utili quando poi costruirete voi delle melodie, dei groove, dei feel, delle semplici frasi musicali, dove, utilizzando una sequenza di questi intervalli, potete creare le cose vostre. e lo vedremo nel prossimo video. e lo vedremo. Grazie a tutti